Un disegno diverso dal solito? Allora oggi l'ho fatta un po' fuori dal vaso ve lo dico E ho un po' sperimentato che è sempre rischioso Però non puoi manco stare a disegnare Goku tutti i santi giorni E quindi ho preso una rana pescatrice come ispirazione Per un'illustrazione ho fatto la rima Che trovo un animale assurdo perché tipo illumina i fondali del mare Però è una bestia cattiva come l'aglio Infatti inganna i pescetti però poi se li mangia E niente non capisco come faccia a esistere una bestia del genere in natura Comunque questo qua è l'esperimento di oggi Che magari fa cagare però sicuramente originale Ciao